ciao a tutti benvenuti in questo nuovo video pezzo che non facevamo oggi parliamo di vst particolare rispondiamo a una domanda che mi avete fatti molti cioè quali sono i vst migliori domanda complicatissima perché non ne esistono però vi posso dire quali sono i migliori vst per il budget che avete a disposizione vi do dei consigli su come mescolare vari vari prodotti quelli che ritengo indispensabili via via crescendo insomma magari ci mettiamo mettiamo qua a disposizione anche una calcolatrice così facciamo dei calcoli sui costi premettendo che stiamo parlando di software originali quindi io non appoggio e approvo in nessun modo l'utilizzo di software pirata perché è una cosa più dannosa del mondo e parliamo di un utilizzo chiaramente professionale dei vst quindi nella speranza che poi con questi lavori che farete con questi strumenti possiate anche guadagnarne chiaramente piccola premessa il periodo come sapete è quello che siamo tutti chiusi in casa io ho lanciato una raccolta di fondi per uno degli ospedali delle delle marche che è la regione dove dove abito vi metto un link qui nella descrizione del video che poi riporta porta il mio sito acquistando il mio ultimo album cortez in vinile o mp3 chi acquista il vinile ha in omaggio gli mp3 oppure potete acquistare solo gli mp3 insomma acquistando questo lavoro contribuirete a questa raccolta fondi dove compreremo materiale sanitario quindi adesso mi sto informando con degli amici medici quali sono le cose più urgenti in questo momento ma penso siano dispositivi di protezione individuale per medici e infermieri insomma quindi donando 10 euro per l'album in mp3 o 30 euro per l'album in mp3 più vinile mi aiuterete questa raccolta fondi fatelo presto perché ovviamente l'emergenza c'è adesso detto questo la la cosa più economica per scrivere musica sicuramente è carta e penna dico una cosa ovvia sì capitano ovvio d'accordo però se ho poco budget posso comunque scrivere bellissima musica musica eccezionale con una matita io uso queste dove sono guardate ho organizzato tutto alla precisione ma non non trovo adesso la matita sono delle palomino eccole mostrate in più video palomino black wing 002 non so se si vede bene se mette a fuoco no comunque sono palomino black wing 602 scusate e sono delle matite che hanno una scrittura morbida bellissima hanno la gomma dietro e hanno un tratto molto visibile quindi con questa e con semplicemente fogli di carta potete fare già lavori eccezionali quali fogli di carta allora se siete un po fissati potete acquistare questi che vi mostro la preview qui sul sullo schermo sono gli stessi fogli pentagrammati che utilizza john williams se conoscete gli sketch di john williams in giro se ne trovano originali quindi utilizza questi della pacific mi sembra la ditta è la seguente se pochi siete curiosi è la pacific music paper qua c'è anche il sito non hanno un catalogo online ma scrivendo potete ottenere questi questa carta da manoscritti insomma per scrivere musica da film sono eccezionali vedete c'è già la divisione john williams scrive più o meno tutto qua gli sketch che fa tutta la parte per orchestra io ho realizzato una versione che posso stamparmi in casa questo è un tipo di manoscritto che utilizzo io altro un altro è questo qua questo è più per orchestra dove ci sono la parte dedicata ai legni alle trombe parte dedicata al tastiere arpa parte dedicata agli archi e alle percussioni ce ne sono anche altre vabbè in normale insomma in a4 io tendo utilizzare più possibili quelli in a4 perché perché io ho questo quadernone sono i quadernoni da in realtà quelli dove si mettono spartiti gli orchestrali e io ho tutto qua il mio materiale cioè se io mi porto dietro questo ho tutto ci tengo appunti spartiti insomma liste di cose da fare io quando questo dietro so che ho tutto incluso spartiti fino a qualche tempo fa utilizzavo per gli sketch ma tuttora a volte questo libretto mi è stato regalato con la calligrafia mozzartiana molto carino la carta è tende a un bianco bianco barra giallo bianco pan chiamatelo come volete è un piacere scriverlo solo che forse un po poco solo per degli appunti poi portarsi dietro in borsa un quaderno solo per la musica l'ho trovato impegnativo invece io ho questo librone qua che sta nel mio zaino e c'è veramente tutto quello che mi serve per scrivere o fare musica quando non sono davanti a un pc insomma molto molto pratico quindi questo è la base con pochi euro potete già scrivere musica e poi farla registrare a musicisti veri perché vale la premessa che per il nostro tipo di musica il musicista vero è insostituibile non chiedetemi qual è il miglior pianoforte per sostituire un pianoforte non esiste molto meglio un pianoforte vero di infima qualità scordatissimo microfonato con un paio di microfoni buoni che qualsiasi vst che trovate in commercio perché poi quel pianoforte scordato sarà unico quindi ricordiamoci questa cosa qua come premessa necessaria poi se avete un budget minimo pochi poche centinaia di euro 100 200 euro cosa fate comprate uno strumento vero è il consiglio di base comprate una chitarra comprate un flauto un violino suonatelo molto male ma utilizzatelo microfonato non so perché è la cosa migliore che potete fare con il budget minimo imparare a suonicchiare strumenti che non sapete suonare e registrarli creerà dei demo che sono eccezionali la base per scrivere musica è questa qua vediamo adesso quello che riguarda è software chiaramente per registrare strumenti veri io vi consiglio computer ne abbiamo parlato in altri video quale computer utilizzare quei video sono ancora validi cercateli nel mio canale youtube un paio di microfoni io utilizzo due rode nt1 che non sono costosissimi un'ottima qualità sia per le voci che per gli strumenti acustici e una scheda audio sul sito della streamback ne trovate di ottime con pochi canali attualmente utilizzo una pre sonus con 8 ingressi e 8 uscite mi trovo molto bene i pre microfonici sono discreti per fare dei demo ma anche ci ho registrato anche dei dischi delle colonne sonore complete quindi vanno più che bene per quanto riguarda i software io direi che il discorso è molto vario perché dipende di che tipo musica fate insomma se fate musica elettronica se fate musica orchestrale musica da camera ci sono varie possibilità io che faccio che scrivo colonne sonore quindi faccio di base musica orchestrale con alcuni inserti in alcuni casi elettronici mi trovo bene con alcuni dei setup che vi vado a elencare adesso chiaramente è necessario un minimo di investimento iniziale vediamo qual è questo investimento la prima cosa che direi di acquistare se dovete proprio scegliere acquistate Cubase Cubase è una digital audio workstation eccezionale ci si fanno i dischi con tutte le versioni di Cubase vi linkerò questo sito dove ci sono le differenze tra le varie versioni di Cubase anche Cubase Artist o Cubase Elements vanno benissimo cambiano ad esempio la quantità di tracce MIDI che potete utilizzare 64 su Elements 128 su Artist e tracce illimitate su Cubase Pro insomma io utilizzo questa versione i suoni che avete a disposizione perché tutte queste versioni di Cubase hanno al loro interno una serie di virtuali strumenti che sono eccezionali sia orchestrali che pop che elettronici avete effetti, compressori, delay, reverb e convoluzione che è importantissimo per la musica orchestrale avete diverse possibilità, tempo track è fondamentale ad esempio non l'avete in Cubase Elements quindi già per fare musica da film una versione Artist o Pro sono fondamentali ad esempio il MusicXML Import Export se dobbiamo far suonare i nostri MIDI a dei musicisti veri quindi dobbiamo trasformarli in score sono fondamentali questa casistica l'avete solo con Cubase Pro 10.5 il MusicXML è il formato universale di notazione musicale quindi io posso esportare il MIDI ripulito che faccio, che io realizzo sulle componendo al computer su Cubase posso esportarlo in un software di notazione musicale come Dolico, Finale o Sibele o quello che volete e poi creare gli spartiti veri e prove, molto utile questo qua Virtual Instruments come vedete su Elements avete solo Alien SE con un set di base di suoni mentre su Artist avete tutti questi altri strumenti che sono molto importanti, ci fate veramente un po' di tutto lo stesso con gli effetti, alcuni ne avete di più e altri di meno andando ai costi che sono la parte che volete sapere, volete conoscere la versione completa di Cubase Pro è 581 euro Artist 331 e Elements un centinaio di euro chiaramente potete fare ottimi lavori con tutti e tre più spendete più avete possibilità insomma chiaramente se io dovessi scegliere metterei da parte qualche soldino e prenderei la versione completa di Cubase perché solo con questo software faccio quasi tutto veramente quasi tutto, parliamo di demo perché nei film, che se ne dica scorto talmente elettronici, insomma esistono ma siamo poco competitivi insomma a livello artistico un altro acquisto che io farei quindi spendendo circa 600 euro avete tutto quello che vi serve per iniziare immediatamente a lavorare un altro acquisto che farei o se siete un altro tipo di musicista insomma se siete musicisti più classici cioè compositori più classici che preferirete scrivere direttamente io quello che farei è acquistare Dorico Pro insomma o comunque Dorico Elements la differenza tra i due la più grande, vabbè, oltre al prezzo 100 euro per Dorico Elements stiamo parlando di uno strumento eccezionale di notazione musicale e 560 euro per Dorico la versione completa la cosa più importante che si nota subito è il numero di musicisti che potete far suonare 12 per Dorico Elements 2 per Dorico SE 3 ma queste sono le versioni gratuita insomma se volete provare la potete scaricare gratuitamente e musicisti illimitati per Dorico Pro 3 se voi siete dei musicisti che scrivete solo musica che scrive solo musica da camera non vi capita mai scrivere per orchestra allora potete andare anche con Dorico Elements 3 quindi con centinaio d'euro ve la cavate la combo Cubase 10.5 e Dorico Elements siamo sui 580, 680 euro quindi mentre Cubase Artist con 430 euro circa ve la cavate insomma prendendo Dorico Elements chiaramente ci sono tutta una serie di elementi in più i divisi l'utilizzo di divisi che è molto più pratico chiaramente professionalmente sarebbe il caso di acquistare Dorico Pro 3 è un piccolo investimento iniziale ma qualsiasi attività vuole un investimento se volete aprire un negozio chiaramente dovete prendere il negozio a meno che non avete il locale di proprietà dovete arredarlo spendere per l'elettricità tutte quelle che sono le utenze tasse licenze eccetera eccetera quindi per partire bisogna investire un attimo poi bisogna trovare il modo per guadagnarli una terza cosa che io ritengo indispensabile è Wave Lab sempre della Steinberg che è fondamentale per finalizzare le vostre tracce per fare anche del mastering o dei piccoli ritocchi secondo me si possa fare anche con Cubase ma io lo trovo molto pratico io sinceramente utilizzo la versione Elements non spendo per la versione completa che sarebbe 501 euro ma sono appena 100 euro la versione di Wave Lab Elements io ho acquistato questa qua perché di più le cose ci sono in più nella versione Pro sinceramente non saprei utilizzarle non sono un esperto di post-produzione e mastering insomma per le mie esigenze di compositore è più che sufficiente insomma quello che c'è nella versione Elements andando avanti se avessi qualche cifra in più a disposizione del mio budget io la prima cosa che acquisterei è Complete della Native Instruments che cosa c'è in Complete? è un potentissimo software di gestione di VST è anche campionatore e contiene in tutte le versioni quasi in tutte fatemi controllare la versione proprio base no allora qua vi linkerò anche questa la comparazione in Complete 12 Select non c'è ma nella versione Complete 12 c'è Contact che è un software Contact completo con tutta la Factory Library dove ci sono strumenti campionati stra-professionali eccezionali sia suoni orchestrali cori, sintetizzatori strumenti vintage bassi, batterie c'è veramente di tutto in una versione base io l'utilizzo molto spesso per fare dei demo molto veloci quindi io acquisterei Contact il bundle di base costa circa 600 euro poi c'è Complete 12 Ultimate e anche la Collector Edition insomma poi lasciamo stare che costano 1200 euro insomma ma siamo un po' un po' al di fuori dei budget normali insomma per gli studi io parlo di studi budget affrontabili da studi casalinghi insomma come sono in questo siamo nel mio studio è una stanza anzi una manzarda magari non spenderei per il Complete 12 Ultimate ma per il Complete 12 599 euro sì cioè prendendo Cubase e Complete 12 quindi con un costo di 600 quindi 1200 euro circa poi magari ci sono delle offerte ci sono degli sconti ci sono delle versioni studenti che potete usufruirne ad esempio Cubase controlliamola adesso la versione Educational di Cubase Cubase Pro Education sono 361 euro ok come ci si qualifica per l'Education dovete essere iscritti a un come studenti in una determinata scuola dove è previsto che voi facciate utilizzo di questi strumenti anche in scuole sia pubbliche che private lo stesso sconto Educational se siete degli insegnanti quindi insomma già spendendo molto meno di quello che vi ho detto precedentemente riuscite ad avere uno studio completo quindi Cubase più Complete 12 siete a posto per fare tutti i demo che volete avrete un realismo sufficientemente buono per fare per proporre a registi o a produttori insomma di demo eccezionali tutto il resto è la vostra capacità di scrivere musica insomma quindi di base ripeto consiglio Cubase e basta se potete spendere un pochino di più Cubase più Dorico o Cubase Complete o Dorico Cubase e Complete insomma queste sono i miei consigli e già fate realizzate dischi eccezionali spendendo un pochino di più io aggiungerei a Dorico Note Performer che è un software eccezionale dove andate ad aggiungere ai suoni che sono già presenti in Dorico perché con Dorico avete moltissimi tutti i suoni orchestrali quindi potreste lavorare anche solo con Dorico se siete un certo tipo di musicista insomma se non avete bisogno di fare produzione audio cioè di registrare altri strumenti se voi interessa solo produrre un ottimo score e far sentire ai produttori e registi il vostro lavoro insomma come suona il brano che avete composto insomma Dorico è più che sufficiente scrivete non dovete produrre poi andare a lavorare con i mixer più di tanto insomma genera un wave e quel wave lo fate ascoltare al file wave lo fate ascoltare al regista e quella è la vostra composizione vi stampate spartiti vi fate suonare strumenti veri a musicisti veri scusate e lì avete risolto non avete bisogno di altro quindi se scrivete molto bene musica e vi abituate lo strumento migliore di tutti è Dorico se vi serve anche fare produzione vi capita di produrre delle canzoni oppure pensate di lavorare in scorro molto moderno dove non c'è solo musica orchestrale ma ci sono anche sintesi dovete preparare voi i master o gli stem a me capita molto spesso insomma di dover fare preproduzione scrittura produzione e postproduzione di alcuni progetti per il quale il budget è medio o medio basso insomma allora vi occorre anche cubese dovete essere pronti un po' a tutto se voi siete duri e puri e dite scrivo solo musica orchestrale e quella voglio fare non mi interessa altro insomma io voglio essere il futuro john williams prendete Dorico che ha già degli ottimi suoni orchestrali dentro se volete spendete qualcosa in più non ricordo il prezzo adesso qua non lo trovo 120 doll 129 dollari prendete anche note performer che ha una capacità di rendere molto più vivi gli score che scrivete con Dorico perché tutte le dinamiche e tutti i passaggi di da una tecnica esecutiva all'altra sono suonati da questo player in maniera molto più vivida e molto migliore quindi aggiungendo qualcosa in più ottenete anche ottimi risultati quindi per 559 quindi 600 ma sì 620 euro circa oppure se scrivete per piccoli ensemble fino a 12 musicisti con 200 euro ve la cavate insomma scrivete delle cose eccezionali insomma poi potete tranquillamente acquistare Dorico Elements 100 euro scrivete per 12 elementi poi se vedete che i vostri score necessitano di più musicisti potete comunque fare un upgrade in un secondo momento insomma questo è il mio consiglio spendendo qualcosa in più per rendere più realistici i vostri score orchestrali io andrei e sono andato io sulla Vienna Symphonic Library come realismo è più che sufficiente è straottimo non è il massimo del massimo per il mio orecchio per un suono hollywoodiano però per chi scrive musica è una gioia perché i case switches sono molto intuitivi gli strumenti anche template molto grandi molto complicati si caricano subito non occorrono risorse eccessive io ho la la versione special edition adesso vediamo se trovo il prezzo a portata di mano il sito della Vienna è un po' poco pratico sinceramente da da navigare delle volte io qualche problemino lo ho allora la special edition bundle costa mille quasi duemila duemila euro no scusate sì duemila euro quasi duemila 1995 quindi risparmiate cinque euro e ci comprate una pizza margherita chiaramente non è economicissima però avete strumenti potete caricare un template veramente eccezionale eccellente e avete sotto mano veramente tutto è un sistema utilizzato tantissimi musicisti io quello che acquisterei oltre al alla special edition è la la trovo qua è la Vienna Instruments Pro che è un scusate Vienna Ensemble Pro che è un sistema che fa da host agli altri VST oltre che tutti i suoni della Vienna inizialmente non capivo a cosa servisse poi l'ho capito lavorando dei progetti un po' più complessi ne ho parlato in diversi video andatevi a cercare il video ma di base è un host che è al di fuori di Cubase dove sono precaricati i VST cioè i VST non vengono caricati dentro Cubase ma in questo software a parte perché è utile perché io ogni volta che cambio Q che cambio scens sto lavorando ad un film non devo ricaricare tutti gli strumenti io ho il mio template caricato in questo host che è appunto Vienna Ensemble Pro 7 in questo caso e i miei strumenti rimangono caricati nella RAM lì e non non ci vado a perdere tempo il progetto di Cubase si carica in maniera indipendente e si aggancia a questo host quindi ogni volta che io cambio scena o che cambio film perché posso lavorare contemporaneamente a diversi film il progetto di Cubase non mi va a ricaricare e mi ci vuole tanto tempo e occupa tanta memoria del Cubase stesso quindi rallenta tutto il sistema è una cosa della quale si occupa Vienna Ensemble Pro un'altra cosa utile ma ripeto andatela a vedere in altri video è che posso caricare questo software host in un altro computer anche in un computer vecchio che lo utilizzo poco perché è poco performante lo posso utilizzare come caricatore di campioni ok quindi come fosse un ecco ripeto chiamiamolo caricatore di campioni quindi evitiamo che Cubase si affatichi da questo punto di vista quindi anche questo potrebbe essere un buon combo spendendo un 200 euro e non devo utilizzare con Vienna Ensemble Pro 7 i strumenti necessariamente di Vienna posso utilizzare i VST esempio di Contacts io ho dei template tutti con strumenti di Contacts che utilizzano Vienna Ensemble Pro come host collegato a Cubase quindi spendendo 200 euro più Cubase una delle versioni non lo so con 700 euro più abbiamo detto il bundle dell'ultimate che sarebbero o 1600 o 700 no scusate sto dicendo una sciocchezza prendiamo i prezzi giusti perché questo video deve essere preciso o 600 euro ok o 1200 euro ma io andrei sulla versione da 600 euro del complete 12 quindi con 1200 2003 avete già un ottimo sistema poi se volete spendere di più avete modo di spendere di più potete prendere la Special Edition della Vienna io utilizzo questo sistema vi anticipo già il finale di questo video nel senso tu però tra tutte queste cose cosa usi io utilizzo quello che vi ho detto fino adesso tutti i video che faccio io parlo per esperienza diretta insomma sul campo ricordo ad esempio che Vienna me lo sono fatto regalare da un regista per il quale stavo facendo un film che era veramente a basso budget allora ho detto guarda facciamo così non mi pagare regalami questo software mi sono fatto regalare 2000 euro di software chiaramente ho fatto un lavoro per 2000 euro di budget quindi con tutte le limitazioni di conseguenza però così mi sono acquistato all'epoca questa Special Edition per risparmiare qualcosa su Contact io potrei comprare i prodotti separati cioè acquistando la Ultimate avete dentro un sacco di cose io quello che tanti strumenti anche che magari se fate come me non non utilizzerete io molti strumenti elettronici che sono presenti in Contact scusate in Complete sinceramente non li uso quindi magari potreste risparmiare qualcosa acquistando solo Contact che è la versione completa sono 400 euro e avete tutta la factory tutta la library di suoni fondamentali che vi servono più tre synth insomma poi a parte potreste acquistare degli altri pacchetti che magari ritenete più interessanti ad esempio vediamo se qua ci sono elencati tutti ad esempio quelli che trovo molto utili sono i bassi gli organi Hammond che sono molto interessanti alcuni strumenti cosiddetti cinematici che potete comprare però a parte insomma se proprio volete come Symfony Essential cioè quindi le famiglie anche queste abbiamo recensiti i legni le percussioni uno strumento o due che hanno qualche loop che può servire anche se io non amo lavorare con i loop loop sintetici tipo Evolve se fate musica per trailer Rise and Hit e queste potete comprarli volendo separatamente interessanti i synth magari fino a un certo punto ad esempio il basso Rick and Baker i bassi sono molto buoni i pianoforti sono più che decenti un buon pianoforte chiaramente dovete averlo un ottimo pianoforte perché delle volte dovrete comporre un un Q dove il pianoforte è molto in evidenza oppure potrebbe capitarvi fare dei score a basso budget dove la maggior parte dello spazio occupato del pianoforte quindi alcuni pianoforti vi potrebbero essere utili quindi invece di comprare la versione magari complete potete prendere singole cose però chiaro che comunque contact dovete acquistarlo insomma insomma abbiamo detto prima un 600 euro no sono perso 300 euro 300 è qualcosa o giù di lì andando avanti se vi serve del iper realismo avete un budget limitato io acquisterei qualche prodotto della project sam io sono tra i primi software che mi è capitato di recensire qui sul canale si parla di tantissimi anni fa e ho lavorato moltissimo con questi software soprattutto per quei progetti nel quale non è richiesta un'orchestrazione vera e propria cioè la divisione per gli archi primi secondo i violini perché non sarebbero stati suonati da strumenti veri quindi per fare dei tappeti di archi o per delle piccole produzioni sono degli strumenti che suonano benissimo da subito quelli della project sam cioè un accordo di archi e già io sento gli archi veri con un minimo di reverbero sono eccezionali poi magari le articolazioni non sono tantissime se prendiamo i prodotti che costano un po' meno però sono già molto utilizzabili io quello che quelli che ho utilizzato più di tutti sono sinfobia sono tutti gli archi anche divisi per famiglie però non primi violini archi woodwinds legni e brasso insomma quindi tutti insieme non divisi per primi violini secondo i violini eccetera eccetera una maniera molto moderna di comporre che se poi lavoriamo con gli strumenti veri ci porta un po' fuori ma se lavorate in alcuni casi solo con il VST è più che sufficiente 230 euro quindi il prezzo è buonissimo chiaramente vi occorrerà contact perché vengono caricati su contact questi strumenti sinfobia 1 allo stesso prezzo anche orchestral essential se volete risparmiare un pochino sono ottimi cioè sono una selezione di sinfobia 1 e sinfobia 2 orchestral essentials 1 e orchestral essentials 2 costano 200 euro ciascuno e anche solo con questo avete più o meno tutto quello che vi serve per creare un suono orchestrale ripeto non dettagliatissimo però già ottenete ottimi risultati ad esempio potrebbe essere una buona combinazione Cubase più orchestral essentials 1 e orchestral essentials 2 quindi siamo sulla versione completa non da studente 580 euro quindi diciamo 600 800 euro prendendone uno o un mi aiuto di euro prendendole entrambe insomma le library molto buoni anche e li abbiamo licenziti e per il tipo di musica che faccio io sono diventati insostituibili swing e swing more che sono il sottotitolo anche questo abbiamo recensito the other film orchestra ovvero c'è tutta i suoni che sono tipici della big band quindi i brass le chitarre i contrabbassi batterie trombe tromboni banjo pianoforti davvero tutto serve per tenere un suono jazzistico che è molto diverso da quello sinfonico se io vado a fare una frase di tromba solista o anche di trombe insieme utilizzando una library orchestrale e faccio un brano jazz da big band non viene un gran bel demo se fate anche quel tipo di musica viene un po' più verso il jazz o comunque un certo tipo di orchestra contemporanea o se fate musica per anche comedi o cartoni animati swing more e swing sono molto utili 230 euro ciascuno e 400 euro l'altro quindi una buona combinazione per un suono orchestrale potrebbe essere ripeto cubase di base sempre più orchestra essentials 1 e 2 o almeno 1 e 2 e una delle due o entrambe swing more io ultimamente mi sono appoggiato su questa configurazione cubase dodico contact con tutta la library interna per i suoni orchestrali il mio template è Vienna Special Edition con Vienna Ensemble Pro come aggiunto questi strumenti della Project SEM un pianoforte non che siano brutti quelli presenti nelle altre library che ho detto ma mi sono affessionato molto a questo pianoforte e l'ho utilizzato in tutte le mie colonne sonore e niente mi suona bene mi suona bene per il mio orecchio per il tipo di idea di pianoforte che ho perché poi ognuno a seconda anche degli ascolti che fa della propria cultura musicale ha una certa idea di alcuni suoni quindi la mia idea di suono è il Galaxy Vintage D della Best Service costa appena 139 euro pianoforte registrato storico ai Bauer Studios un piano del 1920 ci hanno suonato non su quello vero non su quello virtuale ci hanno suonato Cicco Rieck Jarrett Carla Bley e mille altri John Taylor e via è il mio pianoforte di riferimento ne ho provati tanti ne ho recensiti tanti se guardate sulla mia canale youtube ne trovate tantissimi pianoforti recensiti ma alla fine torno sempre qua è un suono che mi suona bene l'utilizzo con un controller che è una tastiera questa qua piano digitale Kavai MP11 facciamo figuracce MP11 perché è una tastiera pesata che veramente dà l'idea del pianoforte vero anche questo è molto importante possiamo vedere il New York VST del mondo abbiamo detto tante volte in altri video per pianoforte ma se dopo la tastiera il controller su quello suoniamo non è buono suonerà finto quindi io come pianoforte mi affido direttamente a questo se avete ancora più budget da spendere per i suoni orchestrali buttatevi sullo Spitfire sulla ditta Spitfire che ha degli strumenti eccezionali bellissimi in questo caso con 1000 euro parliamo della BBC Symphony Orchestra che è una dell'ultime library che sono uscite per loro sono eccezionali abbiamo un'orchestra della BBC che ha un suono bellissimo la cosa che mi piace della Spitfire è che l'ho detto in altri video ho recensito diverse library di questa ditta hanno un suono orchestrale europeo cioè è diverso da quello del appunto la Project Sam Project Sam abbiamo un suono orchestrale più da orchestra hollywoodiana la Spitfire è un suono europeo da musica da film europeo al quale mi sento più legato un suono più caldo più avvolgente per il mio modo di scrivere mi appartiene molto di più diciamo che qualsiasi library della Spitfire va in questa direzione a mio parere trovate molti prodotti interessanti anche firmati da diversi compositori abbiamo recensito il in passato quello di Bernard Herrmann orchestra insomma che era molto interessante date un'occhiata al sito della Spitfire se avete qualcosa di più da spendere appunto prendetevi una library orchestrale completa della Spitfire perché dico completa perché sto parlando di bundle in generale perché se lavorate con l'orchestra vi converrebbe prendere brass archi percussioni e legni di una singola ditta e non mescolare i brass di una ditta qualcuno lo fa lo so secondo me non conviene perché poi spendete tanto tempo a mixarli perché sono suoni diversi hanno rivelazioni diverse modi di gestire i microfoni diversi case switches diversi una library per ottenere degli effetti sugli archi ha un case switch cioè rischiate di impazzire e so che nessuno ne lo vuole quindi prendetevi un'orchestra di una ditta completa possibilmente se avete qualcosa in più a spendere si lo speedfire è un'ottima soluzione io sinceramente come scelta negli ultimi anni 3-4 anni forse visto anche la mancanza di tempo continua ho preferito non aggiornare più di tanto i miei sistemi cioè mi trovo bene con Cubase che continuano ad aggiornare Cubase è l'unica cosa che aggiorno costantemente compro sempre la versione l'ultima versione perché ci sono delle caratteristiche in più perché sono della Stenberg fenomenali nel ascoltare le esigenze degli utenti quindi ah mancherebbe questa cosa non scrive la Stenberg dopo 2-3 release se è una cosa intelligente insomma loro la implementano io quindi la aggiorno sempre quindi sia per Cubase che per Dorico questa sana abitudine ad esempio una volta comprato la Ultimate non l'ho fatto più l'upgrade non perché non volessi spendere soldi che è sempre comunque una cosa buona e giusta ma perché mi trovavo bene con quello che avevo non avevo necessità di dire ah riesco a lavorare meno bene perché mi manca l'ultima versione di Ultimate perché poi c'erano in realtà degli strumenti che non avrei oltretutto usato idem con Vienna una volta che ho l'orchestra completa cosa vuoi di più insomma cosa vai a chiedere di più quindi ultimamente non ho aggiornato molto questi sistemi questo per dire che non è una cosa sbagliata una volta che avete un sistema completo con il quale riuscite a lavorare a produrre non avete stop è inutile correre come fanno in molti alla ricerca dell'ultima library perché è migliore e più realistica della precedente io anni fa quando avevo più tempo ero molto più ingenuo probabilmente molto più entusiasta vedete anche le recensioni sono un po' diradate ma anche per questo motivo era una rincorsa all'ultima library però mi sono reso conto che spendevo più tempo sprecavo più tempo a installare e a capire come funzionava una nuova library che a scrivere musica allora è meglio una library con la quale mi trovo sufficientemente bene e a mio agio anche se non hai gli ultimi suoni a disposizione che però mi consente a lavorare tutti i giorni quindi ho un bel template lavoro con quello e altro non mi serve per questo vi dico potete lavorare tranquillamente bene anche solo con Cubase e anche solo con Dorico potete lavorare anche benissimo con Dorico Elements spendete 100 euro avete 12 musicisti a disposizione che per gli score che vi capiterà a fare gli inizi sono più che sufficienti quindi con 100 euro scrivete e non avete bisogno di altro sinceramente quindi bisogna imparare a tarare e a capire quali sono le proprie esigenze insomma abbiamo fatto questa carrellata io ho qualche cosa che potrei aggiungere in più ecco sì magari un synth io mi sono trovato sempre molto bene Cubase ha tantissimi synth eccezionali all'interno altri ci sono presenti campionati dentro le varie library di Native Instruments Complete insomma ce ne sono centinaia io mi trovo molto bene sinceramente con Omnisphere ho usato più o meno questo ha degli ottimi oltretutto preset possiamo programmare di tutto in particolare con Omnisphere 2 avete un sacco di possibilità il costo in download vediamo se lo trovo al volo non è pochissimo ma è abbastanza abbordabile sono 500 dollari circa insomma è un software che è utilizzato quasi tutti i film dell'ultima generazione cioè io intanto vi mostro questa pagina Omnisphere utilizzato solo l'ultimo anno Stranger Things 1917 Parasite Ford vs Ferrari Mister Robot Avengers Signore Anelli si è utilizzato non ho parole perché basta che guardate questa questa lista in tutti i film nel quale viene utilizzato perché è un suono anche molto molto riconoscibile insomma nella maggior parte dei film importanti degli ultimi anni soprattutto molti blockbuster viene utilizzato questo software che ci fa capire qual è quale sono le sue potenzialità io ho fatto anche una colonna sonora utilizzando solo esclusivamente Omnisphere era un film coreano che ho fatto qualche anno fa ma anche che non è ancora uscito un thriller molto particolare mi sono trovato benissimo lavorare solo con Omnisphere quindi apposta la premessa nel mio video era dipende che tipo di musicisti siete se fate musica per lo più elettronica potreste utilizzare solo Cubase e nella versione altrettutto base più Spectrasonic Omnisphere e siete apposto ovviamente sono suoni per lo più sintetici o comunque che hanno una componente sintetica importante questo anche se cercate un sint da aggiungere a qualsiasi suoni orchestrali vi consiglio Omnisphere l'ultimo consiglio che vi do di batterie ce ne sono moltissime sia in Cubase sono tutte ottime niente sostituisce il batterista vero questo è chiarissimo è stra chiarissimo trovate tantissime bellissime batterie nei bundle della Native Instruments molto belle sono quelle della Bayroad a me piace avere per abitudine un VST a parte dedicato alla batteria e negli ultimi anni sto utilizzando molto questo Superior Drummer anche perché ha dei suoni jazzistici che mi interessano certi sonorità soprattutto dei piatti che trovo molto molto buone insomma quindi Superior Drummer per avere un VST a parte se utilizzate Jack Contact molto buoni sono quelli della serie Abbey Road Drummer che sono anni 60 anni 70 anni 80 o modern drummer e via dicendo insomma abbiamo tenuto questo video sotto l'ora ma per poco insomma questo è il mio video di risposta a tutti quelli che mi chiedono ma se voglio spendere poco o poco budget come fa combinando questi elementi che vi ho dato chiaramente vi metterò il link a queste pagine che vi ho mostrato fino adesso ah scusate il Superior Drummer costa 290 o 379 euro a seconda della versione che acquistate o delle espansioni e vi metterò il link a tutti questi strumenti così potete visionarli ascoltarli acquistarli in molti casi potete scaricare demo funzionanti c'è un'ottima promozione della Steinberg che in questo periodo di lockdown offre per 60 giorni diversi software completi in versione demo ma un demo che dura 60 giorni quindi potete per un paio di mesi lavorare in casa con tutti gratuitamente i software della Steinberg dopo eventualmente acquistare versione completa se siete rimasti soddisfatti ma penso di sì e vi metterò anche il link a una pagina Amazon dove io metto e vi consiglio del materiale che utilizzo in studio sono sia software sia hardware ma ci sono anche libri DVD poi magari parleremo più in là di questa pagina Amazon dove io racchiudo tutte le cose perché molti mi scrivete cosa prendo cosa prendo lì ci sono le cose che utilizzo io e posso garantire nel senso che le utilizzo tutti i giorni in studio quindi mi ci trovo molto molto bene insomma quindi metterò il link nella descrizione del video a questa pagina Amazon più tutte queste altre che vi ho elencato fino adesso insomma commentate scrivetemi quando ho tempo cerco di rispondere mi raccomando datemi una mano con questa raccolta fondi acquistando il vinile o l'MP3 del mio album perché prenderemo delle cose tutto quello che mi arriverà lo dedicherò a acquistare questi dispositivi sanitari ripeto mascherine protezione non so come si chiamano visori e altro materiale che mi stanno consigliando dei amici medici che saluto che ringrazio per il lavoro che stanno facendo insomma è tutti noi che siamo in quarantena siamo dei assoluti privilegiati perché possiamo stare qui chiacchierare di VST mentre medici operatori sanitari di tutti i tipi farmacisti stanno facendo un lavoro enorme quindi li ringrazio aiutatemi con questa raccolta fondi ciao a tutti